Che emozione essere qui da un rappresentante di questa città nel mondo? Oggi qui dall'America sono arrivate proprio una grande rappresentanza per partecipare a questa splendida giornata in memoria di Dottorinio Bello perché Dottorinio Bello è stato il primo vescovo che ha partecipato alla festa della Bocca Interna Festival è la Madonna dei Martiri che si svolge dall'altra parte dell'oceano da 92 anni fanno questa festa e loro lo ricordano nel cuore Dottorinio Bello Le frasi che pronuncia Papa Francesco sono frasi che Dottorinio Bello le ha pronunciate tanti anni fa però Dottorinio Bello era un vescovo, dicevo, scomodo invece Dottorinio Bello è un vescovo che è rimasto nel cuore di tutti e oggi la gente che è qui lo dimostra Siamo onorati di essere qua a Molfetta per la presentazione del Papa e per Dottorinio Bello che noi l'abbiamo conosciuto negli Stati Uniti nel lontano 86 quando è venuta la festa della Madonna dei Martiri con noi e abbiamo visto la sua disponibilità con le persone più deboli c'era mia nipote che era sulla sedia a rotelle lui ci ha fatto spazio nella folla per andare a salutarla era una persona molto disponibile con tutti io ero molto emozionato allora quando l'ho incontrato ma adesso ancora molto di più siamo tanti orgogliosi di arrivare ritornare a Molfetta è un grande onore un momento storico la mia famiglia ha sempre parlato di lui è una meraviglia per noi io e mia moglie abbiamo detto andiamo e facciamo l'onore a Dottorinio e al Papa grazie a tutti grazie a tutti Grazie.